Ragazzi, buongiorno, come va? Devo dire che per me queste ultime giornate sono state davvero impegnative, nel senso che ho avuto un sacco di cose da fare, da studiare soprattutto, e tuttora ne ho, e motivo per cui mi sono anche assentato da qualche giorno dalla creazione di contenuto, nonostante magari questa percezione, ok, possa non trasparire nel mio canale, quantomeno per il fatto che mi prefiggo di mantenere un certo ritmo, ok, una certa cadenza, per quel che riguarda almeno la pubblicazione, ok, di contenuti. Però volevo condividere questa cosa con voi perché intanto mi serve da, così, punto di aggancio, ok, per quello che sarà l'argomento di questa chiacchierata, insomma, del video di oggi, ma anche perché nel mentre, che così pensavo, riflettevo e condividevo con voi, mi è venuta in mente un'altrettanta riflessione molto carina, in questo caso sulla conoscenza, ok, sulla consapevolezza in generale, e su quello che è poi il cammino di ognuno di noi. Ovviamente io parto da me perché vi racconto quello che ho vissuto io, ma non dubito, non metto in dubbio appunto il fatto che qualcuno di voi, in maniera diversa, ok, possa avere sperimentato le stesse sensazioni, ok. Voglio fare una piccola parentesi perché io do sempre per scontato che chiunque di voi mi stia guardando, ok, mi abbia già seguito, che questo possa non essere il primo video, ma appunto non posso darlo per scontato perché magari è la prima volta che vi imbattete sul mio canale e, non so, volete capirci qualcosa di più, e quindi perché non aiutarvi. Non voglio dilungarmi eccessivamente, voglio solo dire che uno dei punti fermi, anzi, probabilmente il punto fermo del mio pensiero, quantomeno ai fini di questo ragionamento, è il fatto che nella nostra storia, ok, di umanità, abbiamo raggiunto un punto in cui la consapevolezza, che è in continua espansione, così ha come attivato una sorta di click, una sorta di pulsante, da cui probabilmente non si può più tornare indietro. Perché in questi giorni, beh, questo percorso di aumento, ok, spontaneo della consapevolezza è ovviamente dall'alba dei tempi che va avanti, nel senso che comunque, seppur con un certo ritardo, no, ogni piccola azione, ma soprattutto ogni piccolo secondo, ok, sono utili e significativi per qualunque tipo di processo, ok. E tuttavia, ai giorni nostri, il progresso scientifico, quindi un insieme di, tra virgolette, concause, ok, tra cui il progresso scientifico, le scoperte, così in ambito quantistico, potremmo dire, di fisica quantistica, le trasformazioni anche abbastanza profonde a cui stiamo assistendo a livello proprio di società, insomma tutta una serie di cose mi hanno fatto capire, o ci hanno fatto capire, nel senso che poi non sono l'unico che lo pensa, che i tempi sono maturi per un qualcosa di grande. Quanto grande? Molto grande. Forse nemmeno noi, nemmeno io, mi rendo conto della portata appunto di questi cambiamenti che stanno per arrivare, ok. Fatto sta che, nonostante appunto la consapevolezza, ok, del genere umano, ok, come collettività e come singoli, si è sempre aumentata e stia aumentando appunto esponenzialmente e incessantemente, la mia riflessione a questo punto è molto semplice, perché non darlo un'ulteriore spinta, no? Male non può fare, anzi. E quindi questo è l'obiettivo che mi prefiggo. E questo per dirvi che cosa? Beh, vabbè, ora mi ricollego ai discorsi che ho appena fatto in precedenza, qualche minuto fa. Nel mio percorso personale sono arrivato più volte a, così, o meglio, vedi, già ho sbagliato la parola, ma non è casuale, perché ho detto, sono arrivato. È proprio questo che volevo dirvi in realtà, ma ho pensato, ok, buttiamola giù così, nel mio percorso personale, ho pensato più volte di essere arrivato, ok, arrivato a un certo punto. Ho questo insieme di conoscenze, ok, si parla di consapevolezza personale, non uso a caso poi la parola conoscenze, non tanto per un discorso di cultura, ok, bensì sottintendendo, diciamo, dei concetti di matrice gnostica. Se dovessi, cosa che ho detto più volte, dire, ok, se sono un, non so, credente, ok, se abbraccio qualche filosofia o qualche pensiero, ok, molto probabilmente risponderei che una parte di me si sente gnostica, perché dico, perché faccio tutti questi giri di parole, dico una parte di me si sente gnostica. Fondamentalmente perché non, di per me, ok, non mi va di aderire a nulla. Anche perché penso non sia neanche necessario, ok, l'etichetta, l'identificarsi su qualcosa, no, è sempre così una, una sorta di, come dire, non mi viene neanche la parola giusta, io credo che semplicemente quando noi ci etichettiamo in un qualcosa, ecco che riduciamo la nostra, il nostro essere infiniti, ok, ad una piccola parte di noi che pur sempre ci caratterizza, perché parte appunto piccola parte dell'infinito, ma che però in un certo senso ci incatena, imprigiona in un qualcosa di troppo piccolo e riduttivo, perché? Proprio perché noi, tra i vari punti cardine del mio pensiero, siamo infinito. Questo lo uso soprattutto a livello religioso, ok, non ho nulla contro una persona che si professa credente con tutto quello che però poi significa e c'è dietro, perché anche qui tra credere, aver fede, e ricadere nel dogmatismo ci si mette veramente poco, ok? Tuttavia, preferisco comunque non utilizzare etichette, perché lo faccio semplicemente perché mi capita spesso di farlo. Non ci trovo nulla di male, ok, non è che è sbagliato, ma più ci abituiamo, ok, a pensarla in un certo modo, a liberarci di dei vecchi modi di pensare e, a mio parere sempre, almeno più progrediamo, ok? Uno potrebbe dire, anche se lo sto dicendo io stesso, tutta questa premessa per dire che tu ti definisci ignostico, ma allo stesso tempo non ti definisci ignostico. In un certo senso è così, sì. Comunque, diciamo che io abbraccio la corrente dell'ognosticismo fra le varie. Aderisco, ok? Mi condivido quello che predica, in un certo senso, ok? La filosofia dell'ognosticismo. Ossia che una conoscenza sempre maggiore, di che cosa? Del tutto, fondamentalmente, possa portare l'uomo alla consapevolezza, alla piena consapevolezza, ossia all'illuminazione. E dicevo, molte volte nel corso di questo mio cammino personale pensavo di essere arrivato, ok? Forse l'ho già detto anche in un altro video, un giorno dopo aver compreso a livello, quantomeno concettuale, ok? Come funzionava il percorso verso il risveglio, ok? L'awakening, magari qualcuno l'avrà già sentito così nel coltarmine inglese. Ecco che ho detto, ah, ok, perfetto. Questa quindi è l'ultima meta, anche vedete le parole, non l'ultima meta, questa era almeno la mia convinzione dell'illuminazione, no? Fino a quando poi ho detto, ah, ok, ho capito, cioè non più a livello concettuale, a livello profondo, che cosa significa essere illuminati. E quindi, no, in testa mia dicevo, ce l'ho fatta, no? Peccato che quello poi è il punto di partenza, ma per carità, comunque pur sempre un traguardo che è giusto festeggiare, no? Dico. Però mi è stato molto utile, mi è stato molto utile perché mi ha portato a mettermi in discussione più volte, ok? E questo fatto di mettermi in discussione più volte mi è servito per non fermarmi mai, per progredire sempre, per continuare, perché fondamentalmente appunto una fine non c'è, una meta forse non c'è, non è neanche importante che ci sia. mi ricordo, insomma, adesso non so da chi l'ho sentito, molti lo dicono, lo si sente, insomma, ecco, che la vita sia un viaggio, ok? Prendiamo per ipotesi che la vita sia un viaggio, E dicono, no, non importa, appunto alla fine, alla fine non importa la meta, importa il punto di arrivo, quello che è, insomma, importa il percorso che fai nel mentre, chi diventi nel mentre, verissimo, molto bello, cioè mi piace, sono d'accordo, e in un certo senso ho applicato e applico tuttora lo stesso tipo di ragionamento al nostro percorso, appunto, verso la conoscenza e verso la consapevolezza. Perché? Fondamentalmente perché la posizione che più ci contraddistingue, e forse è giusto che sia così, è quella di Eterni Studenti, no? Io molto spesso mi beo, se si può dire così, come mi beo? Cioè sono bearsi di qualcosa in italiano, no? Vabbè, forse avete capito una cosa intendo dire, cioè mi compiaccio, ok? Del, non so, hai comunque delle conoscenze, ok? Che ho raggiunto, che ho potuto acquisire nel corso della mia vita e poi dico, beh, ma in fin dei conti che cosa sono? Cioè rispetto all'infinito, rispetto alla grandezza, alla vastità dell'universo e all'antichità dell'universo con la sua saggezza intrinseca, che cazzo ne so io? Ovviamente questo lo dico anche da un lato per auto-ridimensionarmi, però al contempo ovviamente festeggio anche i miei traguardi, nel senso che comunque credo che ognuno di noi nel nostro piccolo possa veramente dare tantissimo e nonostante, nonostante concordo, perché è impossibile non concordare con i grandi pensatori della storia dell'umanità, che noi siamo dei puntini nell'universo e che proprio per questo siamo nulla in confronto alla sua vastità e quello che possiamo conoscere anche che probabilmente è nulla in confronto all'eternità e all'infinità dell'universo e di ciò che sta oltre, ok? Che va al di là della nostra comprensione e finitudine umana, ok? È tutto questo pippone e a cosa lo collego? Lo collego al fatto che appunto all'inizio video vi stavo dicendo che ho fatto abbastanza così difficoltà in questi giorni a mettermi qui a registrare perché ho un sacco di cose da studiare e nel mentre mi torna mi torna sempre in mente quella sensazione per cui appunto in realtà non sappiamo davvero niente o quantomeno quanto meno che più studi più continui a studiare più continui a imparare cose e più ti accorgi nonostante magari tu possa essere diventato anche esperto pratico bravo in alcune di queste che dietro ok? c'è un'infinità di cose in più anche su su quell'argomento o comunque su tutti gli altri insomma su tutti quelli che tu che tu stai passando in rassegna in questo periodo della tua vita o durante tutta la tua vita no? che poi è è molto interessante perché non so se si chiami o a me è venuto in mente adesso sta cosa vedete poi l'ispirazione viene parlando così come l'appetito viene mangiando si chiama effetto effetto Dunning Kruger ok? è un non so se sia ve lo dico così a parole mie ma poi come sempre lo sapete vi metto le risorse e che devo cercare appunto di dare una spiegazione un bias ok? a livello cognitivo quindi degli errori nel nostro modo di percepire ok? di ragionare anche seppure no? abbiamo parlato spesso della mente lo faremo altre volte perché è un argomento affascinante e perché come dico ormai allo sfinimento la ripetizione è l'essenza dell'apprendimento ok? la ripetizione è l'essenza dell'apprendimento sostanzialmente l'effetto Dunning Kruger proprio parafrasato e snocciolato completamente nel modo più semplificato possibile ci dice che lo stupido ok? lo stupido anche magari può essere una persona che è a secco di conoscenze di un determinato argomento apprende apprende qualche nozione su questo argomento ma molto poche e pensa di sapere tutto ok? mentre l'esperto che è una persona che oltre a mettere in pratica ha nel frattempo acquisito un sacco di conoscenze specifiche in quel dato argomento dicono appunto non so se avete già sentito magari scorazzando su internet appunto del discorso delle diecimila ore ok? di pratica su una cosa per diventare esperti comunque è anche interessante e carina come misura diciamo l'esperto invece più studia e più si specializza in una determinata cosa è più convinto di non sapere nulla questi paradossi permettetemi di chiamarlo paradossi sono veramente affascinanti no? perché così non so secondo me mettono sempre più in discussione non tanto la teoria della conoscenza ma il il mondo c'è il modo in cui noi percepiamo il mondo il modo in cui noi siamo convinti di percepire il mondo ripeto sempre costruito appunto su una mappa che noi ci facciamo del territorio sempre citando più volte questo principio della considerazione della programmazione neurolinguistica mappa che ripetiamo ancora una volta non è il territorio e immaginatevi poi cosa succede per ognuno di noi che si forma queste mappe che è il motivo per cui a mio parere con una serie di altre infinite con cause ci troviamo a vivere nel mondo in cui viviamo no? e e il potere ci campa nel tra le mie varie tra i vari punti cardine ok? del mio pensiero anche questo lo ripeto perché non posso dare per scontato che mi seguiate ok? che non si che insomma che non siate che siate che non siate nuovi ok? non posso darlo per scontato c'è il fatto che unitamente al portare avanti la consapevolezza noi non ci dobbiamo non dobbiamo ignorare ma non dobbiamo ignorare proprio per niente ok? il mondo alias il sistema sociale in cui viviamo la struttura gerarchica della società la presenza di un vertice il fatto che poi questo vertice prenda tutta una serie di decisioni e il fatto che poi ragazzi il mondo la realtà ok? con tutto quello che può significare che noi ci troviamo a vivere per diciamo quantomeno il potenziale che noi abbiamo ok? a livello intrinseco ok? cioè è uno schifo nel senso è proprio senza mezzi termini è uno schifo che ci siano ancora determinati problemi in questo mondo con beh anche seppur modesto ok? progresso tecnologico scientifico che abbiamo raggiunto ma anche con tutto quello che poi durante questi x mila anni perché fondamentalmente non li so quantificare neanch'io l'umanità non ha 5 mila anni ragazzi ce ne ha ben di più ok? addirittura non siamo nemmeno convinti questo lo parlo a livello più generico possibile che questa sia l'unica razza insomma che questa sia la prima umanità ok? volevo dire il primo genere umano ad aver vissuto secondo l'archeologia non ufficiale ok? l'ho già detto una volta mi pare questo potrebbe essere la sesta o settima generazione umana addirittura no? chissà che fine hanno fatto le altre molto probabilmente si saranno estinte perché se non ci sono più da qualche parte devono pure essere finite no? ma mai dire mai e quindi perché detto tutto questo? perché ovviamente la presa di coscienza ok? della della società in cui viviamo è altrettanto fondamentale per far sì che quel click ok? nella nostra spray dove nella nostra anima nella nostra mente ok? nel nostro cuore si attivi si accenda questo pulsante e abbia inizio questa rivoluzione interiore e a livello poi globale dell'umanità ora mi sono completamente perso stavo dicendo quindi del fatto che comunque non ci sia un vero proprio punto d'arrivo ok? nel percorso verso la conoscenza e verso la consapevolezza e con ah sì giusto perché stavo parlando dell'effetto danno in Kruger no? e quindi continuare a continuare di imparare e diciamo continuare ad esistere in qualità di eterno studente probabilmente probabilmente ripeto è la condizione che meglio ci può così in un certo senso descrivere rappresentare proprio per i nostri limiti è una cosa che da un certo punto di vista mi mette anche un po' di non so dire se ansia o o che altre sensazioni però so che forse proprio per così anche il percorso che l'anima dopo compie nel corso della vita ossia quello di dopo aver vissuto e aver sperimentato la nascita quello di concludere ok? quello di morire ma certe volte come anche per esempio in questa la questo percorso senza fine ok? il fatto che comunque il cammino verso la conoscenza la consapevolezza non abbia una fine non so ad un certo punto di vista mi mette un po' di agitazione forse perché in testa mia mi piace ok? mi piace pensare di arrivare a quel punto in cui ti si può dire ok? a tu generico bravo ok? ci sei arrivato ce l'hai fatta hai completato il percorso ma queste poi sono sono riflessioni mie nel frattempo sono passati 20 minuti perfetto e sappiate che poi non era neanche l'argomento di cui volevo parlarvi adesso ma così al solito poi combino queste lo sapete come comunico ragazzi insomma se mi vedete da un po' ripeto flusso di coscienza però ci tenevo particolarmente a fare queste anche guardate non sempre poi le mie i miei pensieri le mie riflessioni hanno così una vabbè lo sfondo ok? l'obiettivo generale di fondo ok? c'è sempre l'ho spiegato più volte e lo continuo a ripetere ma poi non sempre magari arrivo a una determinata conclusione come adesso nel senso che poi quello che faccio è anche appunto condividere semplicemente questi pensieri con voi perché siano sperando che siano utili sperando che siano appunto uno spunto fonte di riflessione ecco in realtà quello a cui volevo collegarmi a inizio video dopo aver fatto questo breve tra virgolette breve excursus sul sulla nostra posizione di eterni studenti sul fatto che questo viaggio appunto verso la consapevolezza non abbia appunto una fine prestabilita e volevo parlarvi anche di energia nel senso che un'altra anzi la cosa principale poi che mi è balenata in testa in questi giorni è proprio il discorso sull'energia sul fatto che per fare tutto quello che noi facciamo quindi le nostre faccende le nostre vicissitudini della vita quotidiana anche di ogni giorno comunque ci serva e sia fondamentale avere sempre la giusta dose di energia la giusta carica io soprattutto poi questa cosa la sento molto perché come avrete capito sono una persona che lavora molto di cervello e il cervello ve lo assicuro ragazzi a livello scientifico sapete che poi se non lo sapete magari l'avrete intuito adoro la scienza adoro le spiegazioni scientifiche tutto quello che è il progresso scientifico anche ci ha permesso di spiegare ecco la scienza in questo caso la biochimica del corpo ci dice che il cervello brucia zuccheri peggio di una Ferrari con la benzina ok quindi diciamo che soprattutto tutti gli sforzi di natura intellettuale mentale ok devono essere sostenuti in questi giorni ho studiato veramente parecchio e devo dire anche senza alcun tipo di fatica che è una cosa che poi mi contraddistingue e ne sono felice ecco volevo dirvi questo ne sono felice perché comunque mi rendo conto che per affrontare una giornata soprattutto in questo contesto sociale e poi sto parlando della mia giornata bisogna vedere quelle che sono le giornate in generale delle persone ma il denominatore comune è che ci vuole assolutamente energia e l'energia ragazzi va coltivata io distingo distingo l'energia volevo dirvi anche questo in maniera convenzionale in due tipi ok una più tattile diciamo quantomeno anche se non tattile di cui ci si può accorgere un po' meglio ok che è l'energia fisiologica ok quindi la nostra macchina del corpo umano appunto il nostro organismo che funziona correttamente proprio perché mantenuto altrettanto correttamente in salute e questa dipende da fattori principalmente alimentari ok principalmente ma anche di natura oddio allora emotiva in realtà l'altro fattore i due fattori principali che vabbè al di là il fatto che siano responsabili delle malattie ok sempre ossia alimentazione stress sono anche i due fattori fondamentali per così regolare ok in un certo senso il nostro sistema energetico ovviamente sotto stress c'è un particolare dispendio energetico da un sacco di punti di vista e lo stress ragazzi parte da tanti fattori quello mentale però in primis questo non ce lo dimentichiamo mai l'altro tipo di energia a parte quella fisiologica quindi che ho voluto così presentarvi come una sorta di energia più tattile più materica ma perché più visibile essendo collegata magari al corpo umano non che quest'altra non lo sia ma cerco di darvi appunto di spiegarvi di presentarvi le cose nel modo tale che la vostra diciamo ragione ok che la vostra parte logica razionale lo accetti il più facilmente possibile è l'energia libera ok l'energia libera che poi è l'energia del cosmo l'energia dell'universo che è l'energia del campo quantico quindi tutto quello che ci circonda e di cui anche noi stessi siamo parte e che siamo proprio cioè noi siamo parte dell'universo ma noi siamo l'universo noi siamo energia solamente che in questo reame ok nel mondo in questo piano di esistenza che io sappia almeno il più basso quello prettamente materico o comunque dove l'influenza della materia si sente di più vi ricordo che la materia nel nostro universo è pari al 5% quindi c'è veramente nulla eppure noi siamo costantemente circondati e illusi a livello percettivo dalla presenza di quest'ultima motivo per cui ci è molto più difficile contemplare oltre a tutto una serie di substrati a livello culturale che ci sono imposti da questa società ok il concetto di energia libera ok che vi ricordo che tra l'altro secondo il pensiero dominante attuale non esiste questa energia libera ovviamente noi abbiamo fatto determinate considerazioni ma vi presento anche queste altre per farvi capire come per la gente sia tutt'altro che una certezza tutt'altro che una garanzia anzi è proprio il contrario questo se non sbaglio deriva ancora da Einstein ok dal pensiero di Einstein ma adesso non so ultimamente che si è superato è una certezza questo però ripeto un conto è lavorare strettamente in ambiente scientifico a quei livelli lì un altro conto è essere delle persone comuni che magari non conoscono non sono in grado di documentarsi perché magari non hanno le conoscenze che pregresse o comunque anche se ce le hanno non lo fanno ok e quindi questo è un altro discorso e attenzione perché tra l'altro l'energia libera noi potremmo vivere di energia libera adesso sento molte volte che vengono presi per il culo ma è giusto che vengono presi cioè è giusto che succeda dico perché non mi stupisce il meccanismo per cui poi succedono persone che magari hanno provato a fare no sapete quando come è che li hanno chiamati i respiriani no? quelli che dicono che vivono di aria o quelli che dicono che vivono di sole ok sono tutte cose possibilissime ma possibilissime cioè non il problema appunto di queste cose come dico ogni volta è mistificarle c'è un altro problema però ovviamente nel contempo che è quello di ridicolizzarle perché ripeto se è vero che mistificare una cosa la rende occulta ok e quindi poco comprensibile agli occhi delle persone che anzi la guardano con sospetto e diffidenza di solito e vi assicuro che non è casuale cioè lo si fa di proposito questa cosa ok soprattutto se io possiedo determinate conoscenze superiori alle vostre io generico e voi generici ovviamente e me le voglio tenere per me perché sono fonte di potere perché la conoscenza è fonte di potere fondamentalmente ed ecco che mettere in ridicolo è la combinazione perfetta che va a braccetto dell'occultare del mistificare perché mettere in ridicolo ti allontana anche in un certo senso da abbracciare un determinato pensiero una determinata idea perché magari hai paura di essere oggetto di scherno oggetto di derisione ok di venire allontanato dal gruppo dei pari dalle persone ok quindi il rifiuto c'è tutta una serie di presupposti psicologici ragazzi che qua sarebbe squisito approfondire perché perché meritano cioè capire queste dinamiche anche questo contribuisce a risvegliare in noi la consapevolezza perché non sono stupidaggini e calco molto perché voglio che arrivino queste parole ok cioè non nulla di quello che dico voglio che per quanto magari facile possa essere voglio che sembri banale perché è tutto importante tutto ci può aiutare a comprendere quei meccanismi sottili ok tramite i quali la nostra consapevolezza più nel senso più generale possibile viene annebbiata ok e e quindi sì è possibilissimo vivere di energia libera è possibilissimo vivere di aria così come è possibilissimo vivere di sole quello che non è possibile è farlo in certi tipi di condizioni volevo collegarmi appunto proprio ai ritmi frenetici distruttivi soprattutto a livello di di pensiero ok perché noi siamo appunto una società un mondo fondato sulla sulla produttività sul capitalismo sulla scienza e quindi sul pensiero sull'intelletto e siamo una società schizofrenica in un certo senso malata soprattutto mentalmente ok e questo già solo questo presupposto contribuisce scusate a ridurre la nostra energia notevolmente proprio per l'apporto mentale l'apporto energetico mentale consumato ok se in più ci mettiamo dentro altrettante caratteristiche scusa caratteristiche altrettante altrettanti fatti come appunto il discorso della dell'energia fisiologica ecco che il gioco è fatto perché dico questo perché purtroppo nella società di oggi la maggior parte delle persone proprio perché non gli viene insegnato non ha non ha la minima idea di come prendersi cura della propria energia fisiologica tradotto in parole molto più semplici di come prendersi cura del proprio corpo ok e se voi contate che l'energia libera è completamente cioè in un certo senso l'energia potrete per la maggior parte delle persone un 90% voi potete tranquillamente escludere l'energia libera perché loro non la contemplano e non sanno cosa sia e quindi questo è un bel problema perché ragazzi l'energia libera ribatto su questo dall'energia del campo del cosmo dell'universo noi possiamo attingere infinitamente perché ne siamo parte perché ci siamo dentro e perché siamo costantemente connessi in un certo senso in un altro no proprio perché appunto non ci riusciamo poi nel nella fattispecie no e quindi quantomeno sarebbe di fondamentale importanza prendersi cura ok della dell'energia aumentare quella che è l'energia fisiologica seppure un limite ok questa ce l'abbia e come dico sempre non ho fatto molti video in realtà del fino ad ora nel sul corpo umano ne ho fatti due in realtà questo non è propriamente un video sul corpo umano ma la consapevolezza come dicevo lì è anche consapevolezza di noi stessi quantomeno comprendere in questo piano di realtà dove ci troviamo ok tra i vari punti cardine del mio pensiero c'è sempre anche il fatto che noi siamo degli esseri spirituali ok che abitano un corpo si incarnano in un corpo materiale ok questo corpo materiale è soggetto a determinate leggi che assolutamente ci sono e non dobbiamo negare è fondamentale conoscerle per per comportarsi di conseguenza non sto dicendo che sia facile come ho detto più volte è un lavoro ma l'essere energici la vera energia è di fondamentale importanza soprattutto per affrontare la vita di tutti i giorni in questo tipo di società che è una vita letteralmente estenuante al di là dei ruoli ok che noi possiamo ricoprire in questo tipo di società sono sicuro che quasi tutti voi sarete d'accordo con me sul fatto che il quantitativo energetico speso è parecchio soprattutto soprattutto per quanto riguarda la dimensione mentale e quindi anche qui tante cose da dire ragazzi ho ripetuto fino ad ora gli stessi concetti e ce ne sono purtroppo tanti altri purtroppo insomma purtroppo perché ce n'è sempre da dire e sono tanti anche da apprendere mi rendo conto che soprattutto per chi li sente le prime volte non siano per niente scontati in ogni caso facendo un grandissimo riassunto funziona così due energie energia libera infinita energia fisiologica in un certo senso finita ok noi ci dovremo prendere cura di entrambe e come fare beh mentre su quella libera nonostante effetti mi rendo anche conto che sia la chiave ok perché capito quello ecco che si può anche bypassare quella fisiologica in un certo senso essendo molto difficile molto complesso nel senso che anche io faccio fatica vi assicuro a strutturare un discorso organico su questa però posso così chiacchierare un pochettino su come mantenere ok quella quella fisiologica perché dico chiacchierare ma semplicemente perché sto condividendo delle riflessioni con voi e non ho alcun tipo di così permesso barra autorizzazione né tantomeno voglio farlo per darvi consigli a livello medico o quant'altro nel senso che poi a questo ci dovrebbero tecnicamente dovrebbero pensare gli addetti ai lavori ok peccato che gli addetti ai lavori non lo facciano e così quindi però faccio anche questo disclaimer dico io ripeto sto condividendo con voi delle cose e delle informazioni ok fondamentalmente come poi voi utilizzate queste informazioni beh questo è compito vostro ragazzi però io mi sento in dovere di farlo perché se ci sono delle cose che possono tornare utili a tutti quanti noi mi sento mi sentirei quantomeno abbastanza egoista nel non nel non condividerle e questo per me fa parte del percorso del processo verso la consapevolezza e essendo il tema in un certo senso così potremmo dire medico scientifico a me molto a cuore è una cosa a cui ci tengo particolarmente così in un certo senso fa parte anche di una sorta di dovere morale che sento nei confronti di tutti di tutti noi come umanità condividere queste informazioni e quindi ragazzi l'energia l'energia mentale l'energia mentale è risucchiata tra le varie cose dalla tecnologia e dai media sicuramente questa è la prima riflessione fondamentale da fare cioè questo è inevitabile perché perché lo slogan vorrei che diventasse anzi lo slogan diventa ok accendete il cervello spegnete il televisore voi non avete idea del potenziale di zombificazione che hanno i media e la tecnologia sulle persone voi fidatevi non avete idea non avete idea perché a momenti a momenti noi persone consapevoli ce ne rendiamo conto ma perché a momenti anche noi ce ne rendiamo conto perché utilizziamo questi strumenti viviamo in una società in cui sono diventati parte della nostra vita ok un film che ho visto un sacco di anni fa mi ha fatto ridere quando ha detto che nelle case adesso ci sono più telefoni che figli o più telefoni che membri della famiglia una cosa del genere fa riflettere questo dato ma io stesso a volte mi ricordo ma tuttora magari ci sono momenti in cui non so cosa fare prendo il telefono lo accendo guardando lo schermo e scrollo scrollare sarebbe fare così su e giù con il dito oppure lateralmente ok a vuoto cioè un tic una sorta di così abitudine malsana anche e questa è una cosa anche abbastanza riduttiva ma immaginatevola a livelli più grossi due sono i pericoli più grandi che io ho potuto constatare vedere da un punto di vista di risucchio di energia mentale da parte dei media e della tecnologia anche a dirlo i social network ok questo scrollare contenuti per la maggior parte idioti ok alias tiktok ok o notizie brutte ok per esempio alias facebook ok generalmente non so a livello proprio di anche di così differenza di pubblico ok di utenti che usufruiscono dei social network tiktok ovviamente molto più da ragazzini contenuti brevi ok anche questo molto grave molto grave perché noterete come la soglia di attenzione da parte delle persone si stia stia crollando vertiginosamente ok non riusciamo parlo proprio al plurale ok non riusciamo a stare attenti ad una cosa per più di ma non lo so io ma non mi azzardo neanche a dirlo ma sarebbe interessante se volete condividermela nei commenti se lo sapete qual è la soglia di attenzione media da parte delle persone se mai hanno misurato una cosa del genere penso proprio di sì sinceramente e mentre facebook ok più da boomer dicono ok ma non è che voglio etichettare ok o dire o fare distinzioni ok comunque lo utilizzano molto più gli adulti di solito facebook è una sorta di giornale ok di giornale di strumento sfogo per così appunto condividere le proprie insoddisfazioni frustrazioni pieno di notizie per lo più negativo di stronzate anche quello quindi cioè capite bene che da un punto di vista di cibo per la mente se equiparassimo ok se dicessimo ok per ipotesi che anche la mente come di fatto è al proprio cibo potremmo paragonare il televisore e i social network al fast food ok questo è proprio è come si dice mente rintronata ok sottovuoto cerebrale senza contare anche il fatto che poi questo è collegato anche a dei meccanismi neurochimici ok di 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 dipendenza ok in un certo senso perché ci sono delle cose come beh ma anche il like su facebook banalmente ok meccanismi del genere il fatto che ci sia della gente che ci scriva le notifiche sui messaggi ragazzi è anche impressionante sta cosa avevo un video c'è un video su youtube dove avevo imparato per la prima volta questi concetti ma poi sono triti e ritriti nel senso che per quanto magari molti di voi possano non darli per scontato è sicuro che per molti altri sono dati di fatto sono veramente scontate certo più ci si addentra e più le cose si fanno complesse ma a me piacerebbe un sacco e appunto lo sto facendo condividere con voi poi nello specifico come agisca il meccanismo della dopamina ok quindi adesso non vorrei sbagliarmi dire che la dopamina è un neurotrasmettitore ma penso di sì ok cioè conosco sono tutta una serie di molecole che associate a effetti benefici e positivi nel nostro corpo ok la serotonina che è meglio noto come a livello più tra virgolette grezzo commerciale ok l'ormone della felicità l'adrenalina che ve lo sapete tutti quella cosa che ti fa tremare no dall'adrenalina è quando il corpo appunto di solito la secerna è quando segnala un problema immediato praticamente di solito grave urgente comunque ma anche da panico da stress ok sono tutte che non dovrebbe succedere ma succede comunque è una molecola buona nel senso non è è anche salutare se attivata nei momenti giusti no quando vi fate male quando cadete magari all'inizio non avete la percezione quando prendete una botta pesante non avete la percezione del dolore proprio perché l'adrenalina parte va in circolo e ci aiuta in questo senso dopo cos'è un tot di ore o la notte ok ah madonna che male così è finito l'effetto no è finito l'effetto doping e la dopamina pure ci prova ci fa provare piacere no e con le notifiche con i like su facebook tutte queste cose qua hanno potuto constatare gli scienziati che effettivamente molecole come questa appunto entrano in circolazione ed è un gran problema ed è un gran problema perché poi da questo poi nasce il meccanismo della dipendenza il concetto di droga e tanto altro ma l'importante a parte questo è il quantitativo mentale difficile però da stabilire ok da definire che ci viene portato via dal dai social network e dalla televisione questo è un livello anche più sottile per esempio ok da un punto di vista di energia però lo potete capire non so vi siete mai accorti non so quando state magari tanto al telefono vi capita ma anche giocare ai videogiochi a me è la stessa sensazione devo dire per me che ero un ex gamer comunque mi piaceva molto e tuttora mi piacciono anche se non ho tempo da dedicarci a un certo punto uscite cioè vi staccate dal device praticamente vi togliete dallo strumento come se foste diventati proprio tutt'uno con esso e vi sentite come scollegati madonna anche una sensazione di disagio non tanto per lo scollegamento ma per come se vi foste resi conto ok che prima la vostra mente era appunto imbrigliata nel in questo in questo vortice in questo vortice che vi risucchiava completamente tutte le energie e poi ragazzi la televisore il televisore la televisione la scatola ma come abbiamo detto più volte quella è proprio cioè quella no cioè se c'è una cosa che va spenta e buttata fuori dalla finestra subito a meno che poi non la utilizzate per scopi ripeto tutti gli strumenti possono essere utilizzati per scopi positivi ok è la televisione la televisione dice un mucchio di balle un mucchio di stronzate ovviamente mi riferisco ai telegiornali ma anche ai programmi spazzatura ed 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 cioè non mi voglio non mi voglio neanche dilungare cioè non questo è il discorso spegnetela perché non c'è veramente niente di interessante piuttosto andate su internet andate su youtube volete guardarvi netflix o ben fatevelo ma basta un computer ok cioè nel senso non purtroppo mi rendo conto che i media ok e i social ma adesso in realtà vorrei parlare soprattutto dei media hanno un potere un potere di risucchio energetico devastante devastante perché poi le persone anche là cioè voi pensate chi di voi non avrà mai visto un telegiornale ditemi ditemi qual è il senso di guardare un telegiornale non ha senso questa è una cosa veramente grave è una cosa che va un paradigma che va completamente rimosso dalla testa ragazzi la televisione il telegiornale quanto di più un malsano esista a livello percettivo e a livello di stress e di paura di risucchio energetico notizie negative notizie false tendenziose esagerate cazzate una dopo l'altra e la gente che ci crede cioè quello è il bello è incredibile il potere il potere ipnotizzante dei media e e della della tv dei social in generale ragazzi è devastante io lo batto così tanto perché voglio rendere l'idea voglio voglio farlo sembrare anche addirittura più grave di quello che magari possa solo sembrare ma lo è lo è parecchio a tal proposito vi avevo già poi fatto citato in uno in uno dei miei video un film che era branded il marchio di sangue ora questo si concentrava più sul marketing ok sull'effetto ipnotizzante del marketing soprattutto per quanto riguarda le grandi multinazionali ok i caratelli le corporation ma il principio poi è quello cioè nel senso perché alla fine il marketing dov'è che si propaga nei media cioè o meglio i media i social i televisori ok sono strumenti che adesso hanno tutti tutti insomma diciamo che beh in teoria la maggior parte della metà o poco meno di metà della popolazione dovrebbe avere accesso a internet molto probabilmente avrà strumenti di 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 condivisione delle informazioni quali anche un banalissimo televisore se è vero che cioè se hanno internet ok di solito non voglio generalizzare e quindi pensate pensate a livello proprio di dinamiche di potere se io voglio fare propaganda letteralmente quante possibilità di raggiungere manipolare influenzare ho le persone se possiedo questi mezzi cioè ragazzi sono infinite questo c'è da non aver paura da prendere consapevolezza ecco non è inutile aver paura non non vorrei aver ok detto non vorrei essermi espresso male la paura non serve proprio a niente c'è da prendere semplicemente consapevolezza di come stanno queste cose ora madonna è passato un sacco di tempo vabbè magari farò una seconda parte del video dove parlerò di energia così adesso ho voluto condividere con voi queste queste informazioni qui ma meglio così perché poi del resto come dico sempre a me piace piace essere più più in flusso di coscienza possibile e cerco ce la posso fare dai certo cerco sempre di mantenere comunque una sorta di scaletta di costruire un discorso organico di fare anche delle tesi dei ragionamenti delle considerazioni diciamo che per oggi ci portiamo a casa il fatto che ancora una volta le nostre percezioni sono molto 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 sfalsate sul fatto che sia fondamentale in questo tipo di società fare il pieno ok così come facciamo il pieno di carburante alle nostre macchine fare il pieno di energie per il nostro corpo ok fisiologica o libera che sia perché da da una fondamentalmente la nostra condizione è duplice anche senza generalizzare o abbiamo un'energia stagnante ok o proprio siamo in deficit globalmente e questo è un problema è un problema perché anche per esempio mi rendo conto è ascoltare un mio discorso se in deficit energetico è pressoché impossibile è molto difficile me ne rendo conto figuriamoci non solo perché i miei discorsi magari sono impegnativi difficili quant'altro ma anche perché per esempio ho parlato per 45 minuti cioè non ho parlato per 5 10 15 minuti non ho parlato per 45 considerando la soglia di attenzione di oggi non è poco ok e tutta un'altra serie di cose voglio nella mia vita mettermi in forma con la dieta con l'alimentazione con quello che è mi serve energia voglio fare sport mi serve energia voglio non lo so io voglio avviare una mia attività mi serve energia voglio pensate a qualunque cosa voglio svegliarmi presto la mattina serve energia serve andare a letto presto insomma è importantissimo coltivare il nostro sistema energetico punto 1 e punto 2 beh diciamo che in virtù anche delle delle riflessioni sulla prima parte del video l'essere così eterni studenti anche se non pensavo che l'avrei detto ok necessariamente in questo video l'essere eterni studenti è una condizione che forse al meglio ci caratterizza nel senso che anche proprio in questa in questo nostro percorso collettivo di umanità ok come consapevolezza non è neanche così corretto forse giusto non lo so trovateci voi il termine parlare di di un punto di arrivo ok nel senso che più è grande più è alta più è elevata la nostra consapevolezza e meglio possiamo costruire appunto un un mondo una società ok che replichi una sorta di di paradiso ok e quindi grazie come al solito di avermi ascoltato sono felice così di essermi rimesso a così sul pezzo fare un po' di contenuto ovviamente ci vediamo nei prossimi video domande spunti approfondimenti commenti sentitevi liberi di fare quello che volete condividete questo sì ve lo chiedo mettete like iscrivetevi condividete il più possibile grazie ancora e alla prossima ragazzi grazie a tutti